Bella vecchi trapani, siamo i Granas e siamo tornati qui con un nuovo video finalmente su Black Ops 3 di nuovo e dato che noi non siamo pro player di Black Ops ci piace ridicolizzarci esatto, facciamo cose molto simpatiche ma non impegnative come i gameplay da madonna quindi facciamo 2 players, 1 pad su Black Ops 3 come avevamo già fatto su Ghost ai tempi e su Advanced Warfare anche su tutti gli articoli esatto, quindi ci sarà un 2 player su Black Ops 3 e su uccisione confermata speriamo bene, questa è la lobby, vediamo già gente che ha fatto il prestigio incredibile, carino 2 addirittura, speriamo che stai in squadra con noi e andiamo alla partita partitante però così non riusciremo a giocare quindi abbasseremo un pochettino esatto, tanto vi evitate, guarda, la metto qua e io qua però il bello è che, guarda, potrebbe essere così, guarda, fermo mettiamo la tua sopra oh, 2 players, 1 pad allora, io voglio no, no, vediamo se questa questa? si vai io devo mira così, ok va a destra, segui l'arte, segui la massa, si mamma mia, io non sono in stream provo a dove è qua ok, fermo, tu è qua dietro aspettiamo qualcuno ok, possiamo andare vai, vai, vai ah, questo è viva, vero? guarda, c'è uno là guardalo eccolo, si arriva non lo posso dire pialo oddio vaffanculo ah no, ho preso hai preso, hai preso dai, sarta magari se non è quello è andato da dentro no, perché ce seccavano sicuro vai oddio no, regà, fermate regà, giochiamo meglio così che oh no eh dai, mira, mira è vero, è vero ok, dai concentrazione eccolo oh, 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 si devi morire male, però regà, gira, gira, te là voglio dico, se finiamo in positivo eh, però cerchiamo di finire ma non dobbiamo passare così in mezzo vai guarda, guarda vai, girate qua c'è qua dentro sicuro qualcuno quindi io miro subito no, no, perché non mi ha fatto il dropshot del merda? quanto stiamo? oh, siamo primi vai e lo vediamo fino a fine partita fermate è un pezzo del merda vai ho fatto più ancora occhio a male cazzo fai no, in realtà io volevo semplicemente vai per la piastrina vai per la piastrina uccisione negata siamo dietro, siamo dietro, sì eh, ma sta sopra probabilmente salta vai, vai, vai bello, eh dove? ecco là, non è vero non c'è nessuno non c'è nessuno girate qua, girate qua no, volevo saltare da là dai, pie la piastrina oddio oddio no, stavano già pie la piastrina non siamo più primi però siamo in positivo incredibile ragazzi ma è fantastico infatti guarda, guarda sta cosa non la devi fare se scoprimo eh, lo so, vabbè scialla passa per il largo passa per il largo eccola occhio no, della c'è di qua facciamo di qua eh, appunto ti volevo fanno vabbè, ci sta proprio un culare mi frega un cazzo destra occhio a destra dove sta? vabbè girate, girate, girate tutto girate tutto girate tutto destra, sinistra c'è problemi in direzione comunque vai sopra vado sopra infatti vai mamma mia sotto, sotto, sotto eh, ho capito cioè, ci ho messo tre ore ma ammazzavo uno io che mi muovo via la velo cercate via mi ha fatto a me infatti se ne ho mai sbalzato un po' il coso però vabbè eh, ma non entriamo da qua io direi dei flancalli di? dei flancalli, oh flank, flank che cazzo por di cioè, fai il giro eh, dai vai tu da dietro oddio mamma mia fermatevi fici Homer Prophet sì allora, dobbiamo attivare così insieme aspetta, no, no fuzione vai, vai pronto eh, ma calcola no, no, dai no, no, no no, no dove cazzo sta? ah, ma vaffanculo vai, piala, piala dai, mortacci tu piala, sarta ok do cazzo vai va, bono vai che cazzo sono due mi importa 7-6 ragazzi stanno sempre in positivo se vuoi concentrare perché vai giri dell'a che non c'è nessuno nel star muro eccolo lancia, lancia lancia no no vai dritto per dritto dritto per dritto sì perché girite qua? va, bono perché stanno ovunque questi pezzi del me gioco, abbassate no lol io non vedo non vedo più radar quindi non saprei ditte sopra abbiamo questa pezzi vai vaffanculo pezzo del me di da sinistra ma noi andiamo sempre qua e qua tanto c'è stata gente no perché le dobbiamo aggirare capito dobbiamo fargli credere fidate che qua le dobbiamo aggirare ma la figata però scivolavo sai eccolo là eccolo là ci sta dietro ci sta dietro prima uno lo ammazzavamo ma che ammazzavamo? questo è fatto una tripla vai dai porco duu dai dai sempre in due quasi dramo tu stai davanti basta con ste sciolate ammazzavamo sei simpatico e corri che cazzo fai? sotto ammazzali ammazzali che cazzo è? questi c'è andato se esplodono ma non potremmo resta su sopra eh lo so eh poca puttta vedi per non averlo sparato prima per non averlo sparato ma rimanevamo sopra era meglio no? ma come parli non averlo sparato che si dica di tu non averlo sparato oddio salta salta eh sta buono un attimo cazzo era martillo sì no è quello là sta zitto non mentire quello che rotola sta buono dove cazzo si chiama? c'è un moto è qua adoro quanti cazzo ce ne stanno le mie cose eh sono dieci non lo so uuuu porco 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 pensavo se ne fosse annato 9-11 lo per recuperare vai perché ti abbassi? eh peee la questione eh vedi mo se cazzo se rotelle de merda sono finite mo spero penso di sì ma quanti cazzo ne lanciano? ma è una persona oppure è tipo una ricompensa che va fino a che non lo so non ho mai avuto la cosa bella del viaggio mi dispiace piccoletto ok vai entriamo entriamo sta tutto qua eh sta dietro sì c'era ancora quel cazzo di prophet con l'arco ci ha preso che cazzo è là? è schifo vai l'hunter eccola di cristo di cristo si vai 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 aspetta mi spuntate là l'ho detto eh ho capito ma farmi ricaricato non ti muovete ma non mi sembra che io invece ti stavo aiutando ma no perché se io pio la mira poi te ti muovi ma devi far riprendere un'altra volta non stiamo coordinati è quello il problema cioè io non so dove vai capito? però non piangi non sto a piangere mi parlo del culo ti verso è bello sulla macchina quando va a mira? spuntate là dai spuntate là non è vero si si proprio cazzo c'è proprio che tattico c'è proprio vai fusione occhio e la pia stronzo e la pia che tu cazzo lo sapevo che stava là lo sapevo allora che cazzo va a fare all'altra parte sembra che muovi te non muovo io io corro solo che ti devo dire è stata all'altra parte io ti dico no non è vero ci sarai andato comunque vai salta zompa ok mi spuntano tutti voglio andare là voglio andare là oh dio no dai ma porco tu che camper di merda 12-17 era impossibile comunque mi ripieno in positivo è proprio improbabile adesso la potremmo fare con un po' di accortezza vai vai cazzo piazza prestita oddio non vale che non c'è manca accorto dai che sta qua dai che sta qua sta qua a sinistra a sinistra perché sei andata a destra perché sta qua dritto sì vabbè però non manco dovevo sapere che stava là dai bello che a caso perché perché in realtà non me doveva ammazzare siccome stavo ma se tu da base ci stanno le scale ma lui ti vede tu non lo vedi ma lui ti vede fidate vai paulino vai paulino ah vabbè parco dinci che non di altro oh mi fai via i colpi vai a sinistra sta fermo così sta fermo così e se muove portacci su ma che bordino non ci resta fermo così 6593 noi abbiamo fatto 1321 abbiamo iniziato bene poi ci siamo un po' capito afflosciati ragazzi se vi è piaciuto questo video di 2players 1pad noi ci becchiamo al prossimo video lasciamo 5.000 like magari ci sarà un secondo episodio esatto diciamo tutti qua sotto se vi vogliamo un secondo episodio sì ti prego fallo dai fallo e noi lo faremo anche se non lo dite lo faremo comunque esatto quindi niente il resto è tutto bella copritemelo copri bene